Ed eccoci, siamo in questa stupenda profumeria, profumeria Nadi che sta a Taurianova e la Gurlenna ha scelto proprio questa profumeria, l'azienda OPP Pianagri per lanciare un prodotto tipicamente nostro, il mandarino Marzolo. Ecco, Nadia Gannatà che gestisce questa importante profumeria. Grazie, con orgoglio vorremmo presentare sabato 22 ai nostri clienti questa fragranza che si chiama Mandarine Basilic di Gurlenna che ha all'interno il mandarino Marzolo di Taurianova dell'azienda di Leandro Caccamo e quindi attraverso una degustazione olfattiva, un percorso abbiamo il piacere di far conoscere i nostri clienti questo orgoglio calabrese. A che ora si fa questa iniziativa sabato? Dalle 10 fino alla sera. Allora, tutti quanti vi aspettiamo qui nella profumeria Nadi che è a Taurianova e che è sul costo principale della città, proprio negli orari che abbiamo detto prima per assaggiare questo stupendo essenziale. Ecco, vediamo cosa ne penso io. A me, sinceramente, dà subito una sensazione di buon umore a te. Accattivante. Accattivante, fresco. Accattivante. 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 Accattivante.